Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'Università Europea di Roma, anche se virtualmente vi diamo il benvenuto. Io sono Silvia Profili, sono un docente dell'Università Europea di Roma, oramai da 11 anni e insegno in questa università organizzazione aziendale e gestione le risorse umane e sono direttrice insieme al professor Gabriele Gabrielli che è qui accanto a me di questo master, master di cui andremo a parlare tra poco e quindi siamo felici di avervi qui. Vi presento oltre al professor Gabrielli che è presidente della Fondazione Lavoro per la Persona, fondazione con cui appunto stiamo avviando in partnership questo master universitario di primo livello e vi presento il dottor Liborio De Santis che è il responsabile dell'ufficio orientamento e job placement della nostra università. Avete visto il video di presentazione solo per darvi un'idea di dove siamo, visto che non siete qui fisicamente, di chi siamo? Siamo un'università non statale e eroghiamo corsi di laurea sia triennali che magistrali in diverse aree disciplinari che vanno dall'economia aziendale a psicologia, giurisprudenza, scienza della formazione primaria, turismo e management della transizione digitale. Oltre ai corsi di laurea universitari la nostra area post laurea appunto propone una serie di iniziative sia master universitari sia master professionalizzanti ed altri corsi professionalizzanti per executive. Naturalmente dottorati di ricerca considerate che nell'insieme abbiamo circa 3.000 studenti iscritti alle nostre attività formative tra corsi laurea e corsi post laurea e anche corsi finalizzati ad avviare i nostri studenti a una carriera nel mondo accademico e della ricerca. Allora inizierei subito a parlarvi del master. Questa è la prima edizione quindi è un'iniziativa su cui stiamo lavorando però da due anni ed è un'iniziativa piuttosto innovativa direi unica nel panorama quantomeno nazionale ma anche a livello internazionale per i temi che affronta ma anche per la chiave di lettura che abbiamo scelto di dare al tema della sostenibilità. Ma su questo lascio subito la parola al professor Gabrielli in modo che vi illustri intanto il perché di questa partnership con la fondazione e poi anche le motivazioni insomma che ci hanno spinto ad avviare questo questo master. Prego Gabrielli. Grazie. Grazie Silvia. Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Grazie per essere qui e per partecipare a questo webinar in cui appunto vogliamo condividere non solo il programma di questa iniziativa educativa e formativa innovativa poi ci ritorneremo su questo ma soprattutto anche per condividere le ragioni, la visione, la visione che lo supporta, che supporta questo master e anche soprattutto perché ora questo master, perché in questo tempo. Inizio però subito nel presentarvi un po' la la fondazione lavoro per la persona che è un progetto che nasce undici anni fa siamo una fondazione di partecipazione sostenuta quindi da un gruppo di persone, realtà aziendali, organizzazioni che credono che il valore del lavoro meriti di essere coltivato e il suo significato non debba subire slittamenti di senso come invece spesso ci capita di osservare. Allora l'idea di fondo della fondazione è ben rappresentata dal nome come evidente. Il lavoro e la persona sono due beni ma sono in gerarchia nel senso che il lavoro deve essere a servizio dell'altro quindi della persona. Allora torno a questa idea c'è il lavoro che facciamo l'impegno, il nostro impegno che si realizza in tre campi. Nel campo culturale e quindi facciamo numerose iniziative anche online come webinar come questi all'interno del quale mettiamo i temi che ci sembrano più rilevanti per andare proprio a trattare e coltivare il senso del lavoro. Valorizziamo poi il lavoro attraverso iniziative educative, educative e formative. Devo dire che il master che stasera presenteremo è forse, anzi assolutamente, la più qualificata e avanzata nella nostra esperienza di undici anni. Alimentiamo poi il nostro scopo attraverso anche i lavori di un centro di ricerca e attraverso la pubblicazione di articoli, paper e libri che sono ospitati in una collana, la collana lavoro per la persona con i tipi della Franco Angeli. Insomma il nostro scopo, e chiudo questa brevissima presentazione della fondazione usando anche un linguaggio più manageriale se volete, quello che vedete nella slide cioè coltivare l'umano nell'economia e nel lavoro. Perché in questo modo gli ambienti di lavoro, gli ambienti imprenditoriali possono consentire di realizzare alle persone il proprio benessere, di conseguire il proprio benessere e anche seguire, se volete, un po' le proprie vocazioni, le proprie preferenze e realizzare il senso del lavoro come viene attribuito. Ma veniamo appunto con Master. Allora, perché questa nuova e inedita, in quanto è unica, lo diceva già la professoressa Profili, unica nel suo genere, iniziativa educativa e formativa? Perché questo Master e perché in questo momento, da dove nasce, cioè in altre parole, l'esigenza di proporre a studenti, a professionisti di organizzazione e di impresa, ma anche più in generale a persone che vogliono formarsi alla sostenibilità organizzativa, un programma che mette appunto al centro la gestione sostenibile delle persone, o per dirla come linguaggio accademico, la gestione delle risorse umane. Qual è il bisogno? Qual è lo scopo che ci prifeggiamo? Allora, credo, per provare a dare qualche percorso di risposta a queste domande, credo che sia bene condividere e sintetizzare, lo farò per sommi capi naturalmente, il contesto in cui viviamo. Allora, il contesto in cui viviamo è un contesto, lo sappiamo bene, perché ne facciamo esperienza tutti i giorni, è un contesto complesso. È un contesto complesso e anche molto articolato. È un contesto in cui certamente la prima cosa che viene in mente, che è bene riportare alla nostra attenzione, è il paradigma della sostenibilità. Paradigma della sostenibilità che sta sfinando sempre più numerose imprese e organizzazioni. Viviamo anche in un momento, però, nel quale questa parola, credo anche questo sia esperienza ormai di tutti, di sostenibilità, è una parola che rischia di essere banalizzata. Banalizzata, ma anche fraintesa. È una parola anche che rischia di essere, uso questo termine, mutilata nel suo significato più autentico, perché si può essere tentati di prendere una componente della sostenibilità, ma non tutte le altre componenti. Invece la sostenibilità ha diverse componenti, e quindi la sostenibilità dal nostro punto di vista o è integrale, oppure non è sostenibilità. Scusate il gioco di parole, non è una sostenibilità sostenibile. Cosa stanno facendo, più in particolare, le imprese in questo scenario che sto tracciando molto rapidamente? Cercano, seppur con differenti modalità, di agganciare, come sapete, le loro strategie di business ai 17 Sustainable Development Goals dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Cioè, cosa fanno? Provano ad andare oltre la cornice, pur apprezzabile, della CSA, della Corporate Social Responsibility, per imboccare invece una strada diversa, quella di una transizione reale verso la sostenibilità integrale, di cui primo fatto cenno. Questa strada è una strada ben più esigente, perché chiede alle imprese non soltanto di limitare il proprio impatto. Gli economisti le chiamano le esternalità negative. Ecco, non chiede soltanto di limitare le esternalità negative, ma anche di generare un impatto positivo. Insomma, non è più possibile, seguendo la prospettiva della sostenibilità, scaricare su altri soggetti, e in definitiva sulle generazioni che verranno, queste esternalità. Bisogna eliminarle alla fonte e quindi cambiare letteralmente il modello di business. Allora, la scelta della sostenibilità immaginate che in questo modo andrà a generare nel tempo sempre più le maggiori differenze tra imprese e imprese e sarà quindi una scelta che creerà il nuovo vantaggio competitivo. Ecco allora che all'interno di questo scenario, come potete immaginare, le imprese si stanno attrezzando. Si stanno attrezzando anche cercando di costruire una nuova mentalità, un nuovo mindset nei loro responsabili, nei loro leader, nei loro manager, ma anche nei loro collaboratori a tutti i livelli. E nel contempo hanno sempre più bisogno, e questa è l'altra faccia del discorso che sto facendo, hanno sempre più bisogno di persone con skill adeguate che sappiano cioè leggere questo cambiamento, sappiano leggere questo contesto per poter poi andare a declinare nei processi operativi della gestione dell'impresa questi principi che derivano dal paradigma della sostenibilità. Solo per fare un esempio molto concreto di qualche giorno fa, c'è stato un rapporto di Fever Manager e Confindustria che ha rilevato come le imprese abbiano sempre più bisogno, è un virgolettato questo che vi sto dicendo, di competenze concrete per la sostenibilità. Quindi vedete il nesso evidente rispetto a quello che dicevo. Katia Veros, che è la vicepresidente di Confindustria per l'ambiente, la sostenibilità e la cultura, ha dichiarato che dotarsi di competenze in materia di sostenibilità è ormai un'azione imprescindibile per tutte le imprese di ogni dimensione. Mi pare evidente quindi, come venga fuori e si delinei bene, un fabbisogno organizzativo di competenze ben precise per le imprese. Insomma, nuovo mindset, nuove competenze e skill, nuove professioni sono un altro modo per declinare in termini più operativi il contesto che sono andato a descrivere e che riprendo ancora con altre due battute. Insomma, questo contesto ci dice anche un'altra cosa, che l'economia sta cambiando paradigma. Questo lo stanno dicendo moltissime imprese che vogliono cambiare paradigma all'economia. Nel linguaggio più accademico si parla di che si sta passando, si vuole passare da un capitalismo degli shareholder a un capitalismo invece degli stakeholder. È un passaggio molto rilevante, è un passaggio che crea veramente, è veramente disruptive questo tema, perché c'è una grande differenza tra una prospettiva, la prima prospettiva e la seconda prospettiva, perché nella seconda prospettiva è addirittura la funzione dell'impresa che cambia. L'impresa non deve generare solo e massimizzare profitto per gli azionisti, ma deve generare valore condiviso con tutta la platea degli stakeholder che stanno anche aumentando, anche all'interno dell'impresa, perché l'ecosistema della forza lavoro sta comunque sia anche questa cambiando. Insomma, è un capitalismo che per dirla con le parole di un titolo di un libro curato da Enrico Sasson, che è il direttore di Arla Business Review Italia, deve essere un capitalismo inclusivo. Sentite parole molto diverse da quelle che soltanto a qualche anno fa venivano pronunciate per qualificare il capitalismo. Del resto, e chiudo questa parte, del resto sono diversi anni, almeno cinque anni, che questo nuovo vento, questo vento che spira sull'impresa, viene spiegato da un personaggio molto illustro, molto importante nel mondo della finanza e dell'industria, e cioè Larry Fink. Larry Fink è il presidente, il CEO, del fondo di investimenti più grandi nel mondo. Si chiama BlackRock. Conocerete certamente e sta chiedendo da anni, ogni anno scrive una lettera che è leggibile appunto nel sito, chiede alle imprese di cambiare rotta, di cambiare rotta nel senso di diventare sostenibili, inclusive e responsabili. Sono parole importanti. E allora ecco che trova spiegazione anche perché oggi si usi sempre di più un acronimo ISG che ormai riempie le agende, le presentazioni, le riunioni, lo ascoltiamo da tutte le parti, e che viene usato dagli investitori perché quando devono assumere le loro decisioni per andare ad allocare gli investimenti nelle imprese. Sono nuove metriche. Sono nuove metriche che impattano profondamente nel tessuto organizzativo e culturale delle imprese. E allora credo davvero che a questo punto possano risultare davvero più evidenti i collegamenti tra il contesto che ho richiamato velocemente e il nostro master. Pensiamo infatti che il primo lavoro da fare per rendere sostenibile l'impresa sia quello di saper organizzare il lavoro, disegnare opportunamente ma con i manager naturalmente e insieme alle funzioni HR che aiutano i manager a fare questa attività molto rilevante e qualificata e quindi è necessario che questi manager siano capaci di gestire in modo sostenibile persone e team. E per questo bisogna prepararsi. Bisogna prepararsi per aiutare imprese e manager a fare questo e a riscrivere tutte le pratiche di gestione del risorso umano. Ecco allora ho provato a raccontarvi e a condividere un po' il perché del nostro master. Ho provato a sottolineare gli aspetti che lo rendono unico, unico come offerta, come proposta all'interno di questo contesto che si sta delineando. un master che vuole sviluppare competenze e quindi hanno un mercato e avranno sempre di più un mercato perché come avete ascoltato prima c'è un fabbisogno emergente di mindset e competenze. Competenze concrete, diceva il riferimento che prima ricordavo. un master che riesca a dotare le persone sia di modelli teorici ma modelli teorici inserendoli poi nei contesti pratici, nei contesti cioè che devono dare risposta a problemi concreti. Si avvale poi questo master e questa è un'altra caratteristica molto rilevante dal nostro punto di vista, si avvale poi del diversificato contributo di organizzazioni, imprese, società di consulenza come meglio vedremo più avanti. Per concludere questa piccola parte, quali sono le finalità ancora più in concreto di questo master? Sono davvero molteplici, sono tante. Le raggruppo in due grandi blocchi, in due grandi cluster. Da un lato la finalità, una finalità o un grappolo di finalità è un po' quella di comprendere i temi strategici della gestione delle risorse umane e dell'organizzazione del lavoro collocandoli appunto in una nuova prospettiva, nella prospettiva della sostenibilità. Dall'altro, formare figure professionali dotate di approcci e competenze interdisciplinari con una particolare attenzione che il master mette ha anche allo sviluppo di people, social e cultural skills. Questo è un altro aspetto molto importante e il fabbisogno di queste competenze lo dimostra, lo esprime sempre di più. Allora, per raggiungere, come immaginate, queste finalità e supportare la visione che ho provato a raccontarvi e a condividere, abbiamo anche dotato il master di una architettura che ora la professoressa Profili certamente andrà ad illustrarvi meglio di me. Grazie, grazie Gabriele. Vado avanti, quindi, ancora dieci minuti per illustrarvi appunto i contenuti e l'architettura del master, anche a chi si rivolge, alcune informazioni invece un po' più operative sulle modalità di svolgimento, le modalità di iscrizione. Lascio poi la parola al dottor De Santis per darvi qualche informazione in più circa il tirocinio o stagio che è una componente importante e integrante del master. Allora, velocemente a chi si rivolge, non è facile dire a chi si rivolge questo master che gli destinatari sono molti, certamente laureati triennali o magistrali in qualsiasi disciplina, quindi neolaureati o anche laureandi che comunque conseguono il titolo entro la fine, entro la conclusione del master. Perché in qualsiasi disciplina? Perché come vedremo fra poco, comunque l'attenzione che avremo è quella di dotare anche chi è laureato in discipline umanistiche o scientifiche, insomma non viene da una laurea ad esempio in economia aziendale, di un set di competenze di base finalizzate ad acquisire un linguaggio da un lato, ma anche conoscenze, negli ambiti che sono tipi propri, diciamo nelle discipline e sono proprie del mondo del business, del mondo delle aziende, quindi da discipline più quantitative come le metodologie applicate di statistica o informatica a discipline economico-aziendali, per cui corsi di strategia di impresa, di supply chain management, di economia, per dare anche a un laureato in psicologia, piuttosto che in medicina, piuttosto che in filosofia, un linguaggio che gli consenta di avvicinarsi alle tematiche, come dire, aziendali con una maggiore consapevolezza e una maggiore dimestichezza. Dicevo, destinatari sono laureati, ma sono anche professional, quindi già inseriti nel mondo delle organizzazioni con i ruoli più diversi che vogliono o consolidare le proprie competenze in ambito, soprattutto legate appunto al people management, oppure orientarsi a una carriera magari diversa, più indirizzata verso le funzioni di gestione delle risorse umane, nonché in ultimo anche professionisti che sono, come dire, indirizzati o interessati a guidare team, a gestire un team di persone che quindi vogliono acquisire un bagaglio di competenze più solide sul fronte appunto del people management. Come è articolato il master? Vi dicevo, corsi di general management li ho descritti poc'anzi, quindi i primi tre mesi del master da fine ottobre fino ai primi di gennaio sono finalizzati a questo, insomma a toccare le discipline fondamentali di general management. Da gennaio in avanti invece iniziano i corsi specialistici che si alternano ai laboratori, ci torno fra un attimo, e il master si conclude poi con l'elaborato finale e con lo stage o tirocinio che per le persone che sono già inserite all'interno di contesti organizzativi può essere sostituito con un project work. Allora, vado veloce su questo perché ho già illustrato le finalità principali e anche i contenuti fondamentali, li vedete elencati qui, ovviamente sono pillole, tra virgolette, ognuno di questi corsi prevede due, tre giornate di formazione per darvi un'idea, però credo siano davvero molto importanti perché consentono, se gestiti in maniera efficace come siamo abituati a fare, davvero di acquisire delle skill di base che facilitano, come dire, l'employability da un lato, ma, come dire, l'inserimento all'interno di contesti organizzativi, magari anche complessi, grandi aziende, con un po' più di consapevolezza e un linguaggio un po' più solido. Anche un corso di Business English che è pensato per approfondire soprattutto la conoscenza dell'inglese legato al people management, quindi, e alle soft skills in generale, quindi anche questo focalizzato su temi specifici. Aggiungo solo una parola su questo, le persone che hanno magari già una laurea in economia aziendale o le persone, ad esempio, che hanno già un'ottima conoscenza della lingua inglese possono essere eventualmente esonerate da tutti o da alcuni di questi corsi perché naturalmente sentono di avere già un bagaglio di competenze adeguato su queste tematiche. Corsi specialistici, ecco, questa è la parte core diciamo del master dove, come diceva Gabriele, la finalità qui è costruire e sviluppare quel mindset, quel set di competenze che consentono di scrivere, disegnare, implementare processi e pratiche di human resource management e quindi di gestione delle persone che siano sostenibili. Quindi, disegnare o ridisegnare perché oggi le imprese si trovano a dover ripensare tanti processi magari già consolidati ma a doverli rileggere e ripensare. Quindi hanno bisogno di persone che abbiano sviluppato questa sensibilità. Vedete i processi principali e le pratiche principali che andremo a declinare quindi dall'organizzazione e dalla riorganizzazione del lavoro a un accenno anche alle tutele del lavoro quindi al diritto del lavoro come cambiano anche in virtù della sostenibilità diciamo le tutele del lavoro all'interno delle imprese un modulo dedicato al benessere visto sia nella prospettiva individuale che nella prospettiva organizzativa negli ambienti di lavoro un modulo sul reclutamento e selezione che è una delle pratiche fondamentali dello human resource management uno dedicato alla valutazione delle persone allo sviluppo che ovviamente diventa una leva essenziale e una chiave di sostenibilità sviluppo crescita delle persone un corso dedicato ad approfondire tutti i sistemi premianti reward management che naturalmente possono essere utilizzati all'interno di un'organizzazione per riconoscere e premiare le persone per il loro contributo un'attenzione anche ai temi di diversity and inclusion che sono una componente essenziale della sostenibilità nel people management anche perché le organizzazioni hanno sempre più diversità al proprio interno e questa diversità deve essere gestita e valorizzata infine un modulo che tocca i temi della digitalizzazione applicati alla gestione dei risorsi umani molti processi nelle char stanno cambiando radicalmente grazie appunto alle tecnologie digitali ma bisogna capire come questo cambiamento deve essere gestito appunto per rendere le imprese sostenibili e la gestione delle persone sostenibili i laboratori dicevo i laboratori sono anche anch'essi una parte integrante del master e qui diciamo la finalità è lavorare sulle competenze soprattutto lavorare su quelle che chiamiamo normalmente soft skill allenare i partecipanti allo sviluppo delle soft skill è un allenamento che non finisce mai quindi non finisce mai nel senso che inizia dal percorso formativo all'università dovrebbe iniziare ancora prima nelle scuole ma non finisce mai neanche quando si vive nei contesti organizzativi perché allenare le capacità relazionali le capacità di comunicazione è fondamentale per poi muoversi efficacemente nei contesti organizzativi quindi a questo sono finalizzati soprattutto i laboratori di leadership development con un'attenzione anche a quelle che chiamiamo cultural skill quindi c'è ad esempio un ciclo di incontri di laboratori finalizzati a sviluppare quelle competenze che servono per lavorare nei team multiculturali che sono sempre più numerosi ci sono poi i sustainable work trends che sono un ciclo di seminari che consentono di toccare i temi della sostenibilità da prospettive differenti quindi da discipline differenti con linguaggi diversi di cui interverranno sia esperti sia accademici sia imprenditori manager che porteranno eventualmente la loro testimonianza e la loro esperienza e che toccheranno temi innovativi di frontiere che insomma spingono un po' i partecipanti a farsi delle domande rispetto alle diverse aree diciamo di impatto della della sostenibilità o diciamo delle scelte che si fanno nel people management e infine le sessioni di career coaching ve lo voglio sottolineare perché insomma non sono molti master che dedicano un coach professionista a ciascun studente quindi una serie di incontri one to one con un coach che aiuta i partecipanti a seconda del loro livello diciamo anche di professionale di carriera a comunque costruire il proprio percorso o ripensare il proprio percorso di sviluppo ad un giovane laureato naturalmente il coaching serve per disegnare talvolta e capire anche sulla base del proprio potenziale sulla base delle proprie aspirazioni qual è un possibile percorso di sviluppo e di carriera in ultimo su questo vado velocissimo c'è un elaborato finale da fare quindi una tesi finale normalmente si sceglie un'area tematica che interessa il candidato naturalmente con la supervisione del corpo docente di un docente che viene identificato e che consente di arrivare alla fine al conseguimento del titolo finale di master con una votazione che è espressa nello stesso modo in cui è espressa la votazione di laurea non prima di aver svolto il tirocinio in realtà il tirocinio naturalmente non viene fatto da chi è già inserito all'interno in un'azienda di un'organizzazione che può al posto del tirocinio elaborare un project work allora il tirocinio impegna i partecipanti ma su questo vado veloce perché poi magari aggiungerà qualcosa in più il dottor De Santis ma impegni ai partecipanti presso un'azienda un'istituzione un'associazione una fondazione un'organizzazione ecco qui vedete soprattutto loghi di imprese in questo caso ma non sì queste sono tutte imprese alcune sono società di consulenza che sono solamente quelle che già con le quali già abbiamo fatto un accordo specifico su questo master che quindi hanno espresso la loro disponibilità ma soprattutto il loro interesse a offrire uno stage a persone che conseguono il diploma di master in sustainable human resource management vedete ci sono grandi multinazionali ma anche grandi o meno grandi società di consulenza dicevo sono solo alcune perché naturalmente ce ne sono molte altre ma dalle quali non siamo ancora autorizzate ad usare il logo oppure con le quali non abbiamo fatto un accordo specifico su questo master ma abbiamo un accordo quadro più generale con la nostra università questo ha dimostrazione davvero dell'interesse che il mondo delle imprese e della consulenza ha dimostrato nei confronti di questo percorso formativo che ci ha spinto insomma ci ha incoraggiato diciamo ad avviarlo in preparazione dello stagio e del tirocinio ci sono una serie di iniziative dicevo le sessioni di coaching individuali ma anche l'ufficio job placement dà un supporto per aiutare soprattutto gli studenti magari più giovani e che non hanno ancora un'esperienza di lavoro ad affrontare questo passo quali sono gli sbocchi occupazionali del master sono davvero tanti ma qui abbiamo provato a mettere quelli più importanti certamente è un master pensato per chi ha voglia di orientarsi a una carriera nelle direzioni risorse umane nell'organizzazione aziendale nel mondo del diversity management come sapete nelle grandi imprese ma anche nella consulenza c'è un a un'area una funzione un dipartimento un'attenzione insomma ai temi squisitamente legati alla gestione della diversità e dell'inclusione chi vuole lavorare nel campo del welfare e del benessere organizzativo ma anche in quello della comunicazione perché naturalmente la comunicazione diventa una leva fondamentale sia interna che esterna per orientare le imprese per concretamente insomma rendere le imprese sostenibili l'area le funzioni che si occupano di relazioni istituzionali che si occupano di corporate social responsibility ma qualsiasi dipartimento o funzione in cui come dicevo sia essenziale la capacità di saper gestire team come si svolge il master ora concretamente il master è una durata annuale quindi inizieremo il 27 ottobre con le attività didattiche e la conclusione è prevista a settembre dell'anno successivo del 2023 a conclusione dello stagio project work e dell'elaborato finale le lezioni come si svolge le lezioni si svolgono in modalità blended quindi sono previsti un alternarsi di incontri in presenza presso il nostro Ateneo qui a Roma e a distanza il giovedì e il venerdì dalle 10 di mattina alle 18 del pomeriggio quindi il giovedì e il venerdì si è impegnati sul master una settimana a Roma qui in aula la settimana successiva diciamo così a distanza le lezioni a distanza vengono erogate attraverso il learning management system canvas che dà davvero un supporto notevole per rendere più dinamica anche più piacevole la didattica a distanza e però ecco saranno anche registrate in modo da dare la possibilità ai frequentanti di fluire di queste lezioni anche in un momento successivo in modalità asincrona i master prevedono sempre una frequenza obbligatoria nel nostro caso è del 70% ma ecco la possibilità di fluire degli incontri a distanza anche in modalità asincrona facilita credo insomma il raggiungimento di questa percentuale cos'altro dire su questo ecco sono previste delle prove intermedie durante il master sono previste tre prove intermedie ma sono momenti che servono soprattutto in un'ottica di autovalutazione essenziali anche per capire se effettivamente diciamo comincia ad esserci un'acquisizione di conoscenze e competenze rispetto ai temi affrontati affrontati nel nel corso allora come ci si scrive al master la quota di partecipazione prevista è di 5.900 euro per partecipare al master che inclusa IVA è comprensiva di tutti i servizi che vengono offerti dall'Ateneo sono previste delle riduzioni del 20% per i laureati o i laureandi nella nostra università e del 30% per i dipendenti della pubblica amministrazione ma soprattutto insomma mi fa piacere dire che sono disponibili delle borse di studio messe a disposizione da alcune delle aziende che avete visto nelle slide precedenti a copertura parziale o totale della quota di iscrizione al master borse di studio che saranno assegnate sulla base del merito ovvero sulla base da un lato della valutazione dei titoli dall'altro sulla base dell'esito di un colloquio motivazionale che facciamo nel momento in cui e vado alla slide successiva riceviamo una vostra eventuale candidatura lo step successivo è appunto fissare un colloquio motivazionale che appunto non è un colloquio valutativo ma è un colloquio motivazionale cioè la finalità del colloquio è capire quali sono le aspettative del candidato rispetto al master anche dare la possibilità al candidato o alla candidata di capire se il master risponde a queste aspettative effettivamente in linea con con le proprie ispirazioni alla partecipazione al colloquio motivazionale segue la comunicazione e la missione dopodiché il appunto il candidato o la candidata dovrà procedere all'immatricolazione attraverso il nostro sito web iscrivendosi al sistema S3 che è il sistema universitario che gestisce le immatricolazioni al master ho corso moltissimo spero lo stesso che i contenuti fondamentali vi siano arrivati io mi fermo qui però perché lascio la parola al dottor De Santis per dare qualche informazione in più sullo stagio il tirocinio in generale il placement e poi lasciamo a voi invece la parola per farci delle domande su eventuali elementi su cui avete bisogno di chiarimenti grazie Silvia come ufficio di orientamento e job placement dell'Università Europea di Roma naturalmente siamo davvero onorati di essere di supporto all'organizzazione proprio dei tirocini e nella consapevolezza che naturalmente questo va preparato nel miglior dei modi possibili nel senso che anche tutte le attività che noi offriamo come ufficio di orientamento ai nostri studenti sono finalizzate appunto ad aumentare la loro employability e infatti siamo convinti che già dal primo giorno di università va costruito il successo professionale attraverso ad esempio la partecipazione a tanti laboratori che danno la possibilità ai nostri studenti di sviluppare quelle soft skills appunto che poi sono richieste dagli aziende e dal mondo del lavoro e anche per poi arrivare a svolgere il tirocino avendo già appunto quelle competenze che servono per stare all'interno di un'organizzazione e lavorare per obiettivi e appunto lavorare insieme ad altre persone e nell'ambito delle attività di orientamento in uscita le iniziative sono tante e per organizzare poi il tirocino offriremo naturalmente a tutti coloro che lo svolgeranno la possibilità di partecipare a dei laboratori che possano dare consigli suggerimenti e strumenti per ridigere un curriculum efficace per poi prepararsi ad un colloquio di selezione e in generale appunto ad affrontare quell'iter di selezione che ogni azienda prevede anche per l'organizzazione dei tirocini e questo diciamo quello che facciamo anche per i nostri studenti organizziamo dei laboratori appunto sul curriculum su come affrontare un colloquio di selezione individuale e di gruppo ma anche come diciamo sviluppare il personal brand e il networking attraverso ad esempio insomma l'uso di LinkedIn prima del tirocinio naturalmente noi effettueremo un colloquio di orientamento con tutti coloro che poi andranno in azienda e insieme avvieremo la ricerca cercando appunto di fare il match tra espirazioni professionali obiettivi che il candidato ci segnalerà e le opportunità che ci verranno segnalate dalle aziende che hanno già aderito a questo progetto ma anche di altre aziende e naturalmente noi condivideremo tutte le iniziative che abbiamo previsto per questo anno accademico in particolare realizzeremo dei laboratori appunto sia di orientamento al lavoro ma anche il career day che organizziamo ogni anno in primavera e il prossimo anno si terrà il 30 marzo del 2023 a cui parteciperanno tante aziende quindi anche gli iscritti a questo master avranno la possibilità poi di entrare in contatto con queste aziende e in tutto questo tutte queste attività che in questi anni abbiamo sviluppato ci hanno consentito poi di raggiungere delle percentuali di placement di tutto rispetto e nell'ambito dei vari corsi di laurea queste percentuali di placement sono più alte sia della media regionale ma anche della media nazionale raggiungendo in alcuni casi anche il 100% di placement come ad esempio per il corso di laurea di economia o il 96% per quello di psicologia che poi sono i corsi di laurea che in qualche modo sono coinvolti anche per questo master il tirocinio avrà la durata di 300 ore che si svolgerà in circa in tre mesi potrebbe capitare anche che alcune aziende possono richiedere anche una frequenza una durata maggiore a volte fino a sei mesi naturalmente poi sarà il tirocinante decidere se accettare questa opportunità e generalmente poi questi tirocini sono finalizzati ad un'assunzione e naturalmente mi rendo disponibile a dare ulteriori informazioni qualora ci fossero appunto delle domande bene grazie grazie Liborio a questo punto ecco lascerei lascerei proprio lo spazio alle domande vi chiedo la cortesia eventualmente di utilizzare la manina che avete su zoom per prenotarvi e volevo aggiungere una cosa che questo master appunto come dicevo all'inizio è fatto dall'università europea e insieme alla fondazione lavoro per la persona ma ecco è bene sottolineato anche con la collaborazione dell'ASVIS e questa è una cosa molto importante l'ASVIS come sapete è l'alleanza per lo sviluppo sostenibile è un'alleanza cui oggi partecipano oltre 300 organizzazioni imprese eccetera e quindi ci fa veramente piacere che abbiamo avuto anche la disponibilità alla collaborazione di questo grande di questa grande organizzazione che lavora proprio per far sì che il paradigma della sostenibilità trovi concretezza anche nell'economia e anche all'interno dell'impresa sì bravo Gabriele perché è una cosa importante lo vedete anche qui infatti la la dottoressa Mallen che è presidente di ASVIS fa parte del comitato scientifico scientifico del master insieme a me Gabriele e al professor Raul Nakamulli professore di organizzazione dell'università Bicocca di Milano ma ecco ci tengo a sottolineare che dietro al master all'organizzazione del master al suo funzionamento c'è un team di persone qui oggi avete conosciuto solo il dottor De Santis ma ci sono altre persone che conoscerete qui ne abbiamo inserite solo due una è la coordinatrice sarà la coordinatrice del master la dottoressa Francesca Garofalo che sarà anche coinvolta nel corpo docente come nelle attività di coaching e di laboratori sul cultural skill quindi una persona con un'esperienza consolidata nel mondo del people management e la dottoressa Chiara Messina che vedete qui che è referente dell'ufficio post laurea che darà un supporto anche fondamentale per tutti gli aspetti organizzativi legati al master queste sono due delle persone ma insomma le persone che sono dietro all'organizzazione del master sono molte anzi approfitto per ringraziarle e avrete modo di conoscerle in questo ambiente che crediamo essere davvero inclusivo e cerchiamo di renderlo anche sostenibile quindi spero che avrete modo di apprezzarlo dicevo il corpo docente è fatto sia di professori universitari che sono in larga parte professori di questa università ma anche professori che vengono da altri atenei da altre università ma è fatto anche di esperti nelle varie materie professionisti consulenti che magari portano la loro expertise ma anche la loro progettualità in questo ambito quindi alcune delle società di consulenza che avete visto nelle slide precedenti sono anche coinvolte nelle attività didattiche coinvolgeremo anche molti manager imprenditori e di nuovo diciamo sì people manager soprattutto che hanno avviato all'interno delle proprie imprese delle esperienze che possono essere interessanti da condividere questo perché l'idea che comunque soprattutto chi magari non ha ancora un'esperienza rilevante all'interno dell'organizzazione non ha alcuna esperienza in ambito organizzativo possa portarsi a casa anche anzitutto un network di relazioni ma anche la conoscenza di come i temi del people management sono poi realmente implementati all'interno di diverse organizzazioni perché insomma vedrete che c'è un mondo che è molto diversificato che il linguaggio del people management poi assume connotazioni diverse imprese diverse ed è importante comprendere come per esempio le diverse culture aziendali poi influiscono sul modo in cui la sostenibilità viene letta e viene messa in campo dalle organizzazioni sì se posso aggiungere nel frattempo se arriva qualche domanda mi piaceva riprendere il tema da cui siamo partiti che questo veramente è il primo tentativo oggi disponibile nel mondo accademico un tentativo di una iniziativa accademica formativa che prova a declinare la sostenibilità nelle pratiche dei human resource management l'abbiamo detto ma è bene ritornarci perché questo è un aspetto dal nostro punto di vista molto significativo e in una prospettiva strategica in una prospettiva strategica che come avete ascoltato prima due ancora cose mi piaceva sottolineare due aspetti l'interdisciplinarità che l'abbiamo già sottolineata e la capacità di questo master di fornire veramente e di far combinare più prospettive e quindi diventa anche questo un investimento culturale di per sé un investimento culturale di per sé ecco forse anche questo non l'abbiamo detto ma merita i target sappiamo i destinatari l'abbiamo detto sottolineati studenti laureati professionisti ma anche professionisti che vogliono percorrere dei percorsi di riposizionamento professionale oggi si ascoltano tante storie di persone che fanno già un mestiere sono occupati in azienda ma che per propria vocazione per propri interessi vogliono riposizionarsi all'interno di di temi di funzioni che gestiscono concretamente il tema della sostenibilità e anche questo quindi è interessante perché è utile proprio alla ricollocazione all'interno delle imprese quindi dei processi di mobilità interna sì buonasera io avevo una domanda riguardo il tirocinio sì io sono in possesso di una laurea magistrale quindi non lavoro in azienda per cui rientro perfettamente appunto fra le persone che avrebbero bisogno di effettuare un tirocinio volevo sapere se è necessario candidarsi cioè se la selezione segue un vero e proprio processo di candidatura presso le aziende chi è il mediatore e nel caso ecco come avviene la selezione generalmente i criteri di selezione aziendali riguardo lo stage grazie grazie a lei sì è una domanda corretta perché effettivamente è importante spiegare il processo intanto lo stage è una parte integrante del master quindi non è che ci si candida oppure no quindi a meno che il partecipante ci dica no io già lavoro in azienda lavoro nel mio studio professionale sono un consulente un professionista non sono interessato a fare uno stage in un'altra organizzazione allora in quel caso lo stage come dicevo si sostituisce con un project work e poi si valuta insieme al corpo docenti come impostare il project work ma in tutti gli altri casi siamo noi anzi che ci preoccupiamo normalmente negli ultimi mesi di frequenza delle attività didattiche già a impostare un discorso con i candidati quindi cosa si fa intanto le sessioni di career coaching sono un po' finalizzate anche a questo quindi a costruire ad aiutare diciamo così un candidato che è un neo o una candidata che è una neo laureata a capire un pochino quale potrebbe essere un percorso in linea da un lato col proprio background accademico dall'altro con le proprie aspirazioni professionali e questo già si fa un po' durante il master con il career coaching poi normalmente l'ufficio orientamento e job placement il team del dottor De Santis organizza almeno un colloquio un incontro che viene fatto col partecipante al master in cui si comincia a ragionare su possibili aziende che possono essere interessate e interessanti per il candidato o la candidata dopodiché si fa normalmente una o più proposte quindi facciamo un esempio concreto si va dalla studentessa adoro studenti dice benissimo possibili inserimenti sono in Enel Group in Deloitte in KPMG ti interessano se la risposta è sì come normalmente insomma succede allora si organizza un colloquio che è un colloquio di selezione naturalmente sullo svolgimento del colloquio e qui magari lascio Liborio intervenire normalmente gioca la scelta dell'azienda cioè l'azienda che fa un colloquio molto snello l'altra azienda che magari fa un colloquio più approfondito è ovvio non è mai un colloquio di selezione approfondito come quello che si fa quando c'è un inserimento che non è uno stage ma è un contratto di lavoro vero e proprio però insomma questo dipende dall'azienda dalla società ci sono alcune aziende che mettono un po' più di cura nel processo selettivo altre che invece trattandosi magari dell'inserimento di un neolaureato per uno stage si affidano ad un incontro conoscitivo insomma magari più snello dopodiché il candidato e ti lascio poi la parola è libero naturalmente di accettare o meno la proposta che viene fatta peraltro la maggior parte degli stagi sono remunerati ma può esserci anche qualche azienda che non ancora c'è qualche azienda che non remunera lo stagio in quel caso il candidato o la candidata è libera di non accettare la proposta e casomai di attendere altre proposte di altre aziende e organizzazioni ma Liborio ha confermato il fatto che poi ogni azienda prevede un iter di selezione a volte si può partire da una prova di selezione di gruppo perché non siamo l'unica università a proporre dei master in area risorse umane quindi possono valutare anche più candidati e si parte da una prova di selezione di gruppo per poi procedere con il colloquio di selezione individuale ma è necessario anche poi arrivare al colloquio e quindi è importante lavorare anche sul curriculum perché potrebbe capitare anche che un'azienda valuta il curriculum e non lo ritiene adeguato quindi bisogna partire già dal curriculum e poi l'iter ripeto può essere diverso a seconda delle aziende è chiaro che diciamo il colloquio di selezione individuale è il momento più importante e lì bisogna arrivare anche in questo caso preparati sì anche per questo noi diamo la possibilità ai partecipanti al master di seguire le iniziative che ha illustrato anche se velocemente il dottor De Santis poco fa di preparazione del curriculum di preparazione del colloquio quindi per chi magari non ha ancora molta esperienza è un allenamento molto utile che consente di arrivare con un po' più di sicurezza a questi momenti poi naturalmente le imprese che voi avete visto in quella slide ma che aumenteranno nell'arco dei prossimi giorni perché oggi per dire all'ora di pranzo ho avuto un colloquio con un'azienda importante che non è qui rappresentata perché insomma formalmente non abbiamo ancora come dire un ok per l'assignazione di stagio dicevo queste imprese queste società sono tutte interessate a questo master quindi a persone che escono da questo master quindi questo come dire è un elemento in più per poter dire che ovviamente poi la conoscenza è una conoscenza personale col candidato o la candidata però tendenzialmente il master è una cosa che viene dopo la laurea quindi diciamo che sono interessate anche a candidate che magari hanno una laurea in discipline umanistiche o in psicologia piuttosto che in economia aziendale ma che avendo fatto questo master insomma sono candidabili per posizioni che altrimenti sarebbero a cui sarebbe magari più difficile poter accedere vi ringrazio e colgo l'occasione per porre anche un'altra domanda se posso in continuità con quello che mi avete appena detto prego quindi le aziende comunque non sono obbligate a scegliere a selezionare un candidato per lo stage diciamo solo perché tra virgolette ovviamente è in convenzione comunque con il master cioè potrebbero comunque riservarsi anche la possibilità di dire questo candidato per noi non è adatto assolutamente sì assolutamente sì ma credo non sia neanche nell'interesse della candidata o del candidato ad entrare in un'organizzazione che dà lo stage solo perché perché deve rispettare un obbligo che ha preso no? proprio per questo insomma le università normalmente non parlano mai no? di sicurare lo stage in una certa azienda è una cosa che non sarebbe seria no? perché l'impresa naturalmente si deve riservare la facoltà di poter vedere se c'è un'affinità diciamo così un fit un allineamento col candidato o con la candidata e questo è importante sottolinearlo perché ecco noi ci teniamo a trovare degli stage cioè noi troviamo degli stage veri non troviamo degli stage fatti solo per rispettare l'obbligo no? formativo per noi lo stage non è un obbligo formativo per noi lo stage deve essere un'opportunità reale di formazione di crescita di sviluppo quindi anche se il candidato poi non resta dopo i sei mesi dopo i tre mesi in Deloitte in Enel in Win3 o in una delle altre aziende in cui va a fare lo stage però in quei sei mesi noi dobbiamo essere certi che fa davvero un'esperienza formativa che fa davvero un'esperienza qualificante per il suo percorso e quindi affinché questo accada l'azienda deve essere deve prendersi l'impegno ad ospitare il candidato o la candidata non so se mi sono spiegata cioè quindi deve farlo con un certo investimento perché è un investimento reciproco naturalmente quindi non può mai essere un obbligo quindi insomma ecco bisogna sempre invitare un pochino dalle istituzioni che magari invece promettono assicurano non si può mai assicurare quello che si può assicurare è la serietà nella selezione delle aziende delle società che propongono stage quello che si può assicurare è la serietà nell'accompagnare il candidato la candidata in un percorso di crescita che poi porta anche ad avvicinarsi al mondo del lavoro insomma con una sicurezza una consapevolezza una capacità che che è più forte e più consolidata ecco questo sì questo sì che deve assicurare il master non può mai assicurare la certezza che quell'azienda magari nostra all'azienda in cui si svolge lo stagio questo questo no la ringrazio ecco volevo appunto proprio capire la logica diciamo che che guidava la scelta da parte delle aziende perché era importante anche per ecco per noi studenti magari per capire bene se c'era una garanzia al cento per cento se c'era eventualmente anche diciamo un margine di rischio anche se non so probabilmente remoto insomma di non effettuare uno stagio in nessuna delle aziende convenzionate con il master assolutamente grazie a domanda perché almeno ci ha consentito di chiarire questo aspetto che credo insomma sia importante e l'ha sintetizzato l'ha sintetizzato bene insomma ok io mi auguro che cioè diciamo visionando un po' il trend che avete prima mostrato a proposito degli studenti che avevano una tecnologia esatto cioè il trend delle assunzioni se non sbaglio ecco io vi chiedo in modo molto sincero se una stima potete farla rispetto invece a studenti che si iscrivono avendo altre lauree io ad esempio ho una laurea magistrale in filosofia le do la mia prospettiva non le posso dare dei numeri no? perché non abbiamo delle statistiche tali da poter dire quanti laureati in filosofia no? qual è il placement dei laureati in filosofia dopo un master peraltro ogni master fa un po' storia a sé da questo punto di vista certamente le imprese che hanno un'attenzione ai temi della sostenibilità nel people management hanno anche una sensibilità nei confronti della diciamo della differenza culturale che deve esserci sempre di più all'interno delle organizzazioni voglio dire queste sono le imprese che vadano meno come dire al tipo di laurea vadano di più al tipo di competenze che la persona ha la visione che la persona ha le capacità che la persona è in grado di mettere in campo certo il master serve perché ovvio che senza il master mi rendo conto che un laureato o una laureata in filosofia fa un po' più fatica a proporsi ad alcune di quelle imprese che abbiamo visto prima nella slide no? perché? perché magari dovrebbero fare un lavoro di training di formazione di inserimento troppo lungo magari gli piacerebbe anche farlo ma poi spesso le imprese il tempo non ce l'hanno e quindi cosa fanno? si affidano alle università alle business school per dire bene questa persona è laureata in filosofia ma ha anche acquisito conoscenze e competenze in un ambito che a noi interessa quindi ecco mi sento di dire che la maggior parte delle persone che fanno recruitment selezioni di queste imprese non vanno tanto a guardare in che cosa uno si è laureato prima ma vanno a guardare la persona guardano se è motivata guardano che linguaggio utilizza guardano che potenziale ha rispetto ai processi che dovrà seguire alle attività di cui si dovrà occupare sicuramente ecco il master dà la possibilità di acquisirlo questo linguaggio di approfondirle di svilupparle queste competenze se posso aggiungo soltanto una cosa rispetto a questo che chiedeva Raffaella il fatto che le imprese hanno aderito collaborando offrendo quindi stagio anche buzze di studio a questo master è perché già hanno in testa il concetto che la sostenibilità porta con sé un approccio interdisciplinare il master lo va a focalizzare sul tema dello human resource management e quindi voglio dire è un po' nella premessa nelle ragioni proprio di questo master quindi possono esserci tanti approcci tutti benvenuti e tra l'altro se va a ripercorrere un po' Raffaella la presentazione soprattutto quello che diceva la professoressa Profili nelle vari topic nei vari corsi lì ci trova per esempio tutta una parte che lei ha frequentato quando si è lavorata in psicologia adesso in filosofia perché se va a vedere ovviamente abbiamo fatto una presentazione molto veloce ma il tratto anche dei corsi l'abbiamo declinati cogliendo anche categorie filosofiche come avrà come avrà intuito categorie filosofiche che riprenderemo anche all'interno di quelli che abbiamo chiamato in workshop sulla sulla sostenibilità si aggiungo anche un altro elemento noi abbiamo fatto una serie di colloqui con le imprese prima di progettare in fase di progettazione del master e una delle cose che ci hanno detto più spesso è noi vogliamo persone che abbiano un mindset interdisciplinare siamo stanchi degli iperspecialisti e questo un pochino ci ha sostenuto nelle scelte che abbiamo fatto nel master ovviamente questo insomma significa che insomma non servono solo i laureati in economia o i laureati in psicologia del lavoro dentro le direzioni risorse umane peraltro devo anche dire che nelle direzioni risorse umane le direzioni risorse umane forse sono l'area aziendale dove questa interdisciplinarità è più apprezzata cioè magari nelle funzioni di accounting magari anche nel marketing un po' di più ma in quelle più legate all'amministrazione al controllo la finanza alla produzione ancora di più magari è più difficile perché le competenze come dire tecniche in alcuni casi ingegneristiche in altre finanziarie diventano più importanti forse nelle direzioni risorse umane nonostante ci sia una parte alcuni ruoli in ambito HR che sono anche che richiedono un approccio più quantitativo ma sono proprio le aree dove di più insomma c'è un'apertura verso discipline assurrente non quantitative ci sono direttori e direttrici di sossumane e filosofi quindi voglio dire delle prove viventi di questo o fisici per andare all'estremo opposto insomma benissimo vi ringrazio e comunque Raffaella garantiamo comunque lo svolgimento del tirocino quello lo garantiamo sicuramente quindi se non possiamo garantire in quell'azienda però sicuramente in un'altra specie certo questo sicuramente quindi non è detto che sia proprio quella lo voglio fare proprio 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 in questa ecco lì naturalmente questa assicurazione non la possiamo dare però che il tirocino lo stagio si faccia quello sì assolutamente grazie tante per la rassicurante e l'esaustiva risposta grazie a lei ecco approfitto per dire che se prima di eventualmente foste intenzionate o state riflettendo su un'eventuale candidatura per il master e aveste bisogno di qualche così di un colloquio individuale per avere qualche chiarimento ci scrivete sul sito trovate i nostri riferimenti e molto volentieri nei prossimi giorni possiamo fissare anche un colloquio individuale magari lo possiamo dare la mail no? quella di a cui scrivere per ah sì l'email master ah no post lauream ok post lauream chiocciola unier punto it ok non vedo altre domande quindi direi che li liberiamo e ci salutiamo grazie grazie per la per la vostra presenza e speriamo di conoscerci in qualche occasione di di persone buona buona serata a tutti grazie grazie buona serata grazie 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 grazie